Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Contoti EPS nella fattispecie per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione Prima di iniziare, se vi sono piaciuti i miei video precedenti e anche gli altri video dei nostri format Ginplotti, Anime da nostra infanzia e iSIR vi consiglio altemente di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina cosicché quando pubblicherò altri video voi ne sarete informati Inoltre, vi consiglio anche di andare a visitare il nostro sito internet www.borderlineitalian.com Oggi vi parlerò di una porcata che è presente nella quarta stagione di Deep Space Nine nell'episodio 10 e 11 che sono rispettivamente il nemico tra noi e il paradiso perduto Dunque, saremo a bordo della nostra USS Relativity e vediamo la porcata di oggi perché oggi parleremo di sapodaccio e vediamo la porcata che è presente nella quarta stagione di Deep Space Nine Il ammiraglio della flotta stellare, l'ammiraglio Leighton che teme che la minaccia del dominio possa raggiungere la Terra chiede al presidente della federazione, Gianni Scignio di attuare certe misure di sicurezza Gianni Scignio, il presidente della federazione, rifiuta questa proposta e l'ammiraglio se ne va Nel frattempo succedono due eventi su Deep Space Nine notano che il tunnel spaziale si apre e si chiude in maniera inspiegabile a intervalli più o meno regolari Nel frattempo, sulla Terra accade che in un convegno diplomatico che si teneva ad Anversa in Belgio c'è stato un atto terroristico e dalle telecambe di sicurezza si è capito che questo attentato terroristico era stato fatto dai cambiandi i cambiandi hanno raggiunto la Terra l'ammiraglio Leighton manda a chiamare Sisko e Odo perché Sisko, beh, è il lotto in prima linea contro il dominio Odo perché è un cambiante quindi chi meglio di lui sa come combattere questa minaccia partono, incontrano l'ammiraglio Leighton che è affiancato dal comandante Bentin e vanno di nuovo dal presidente Gianni Scignio per dirgli, guarda, bisogna attuare queste misure perché dobbiamo rendere la federazione e una fattispecie le installazioni militari sicure e bisogna controllare sia militari che civili che siano familiari di membri della flotta stellare in modo tale da determinare se tali installazioni siano sicure il presidente, visto cosa è successo ad Anversa visto la pressione che l'ammiraglio Leighton fa con l'aiuto di Sisko e Odo si trova costretto ad accettare parte di queste misure sembra che tutto vada più o meno bene a parte qualche problema perché praticamente un cambiante si sostituisce a Leighton e Odo se ne accorge comunque tutto sembra procedere bene ad un certo punto sulla Terra e dico su tutta la Terra manca la corrente elettrica c'è proprio staccano la spina si pensa che sia un atto di sabotaggio del dominio perché la Terra senza elettricità è una Terra senza difesa quindi dicono qua il dominio sta arrivando se ne vanno di nuovo da Gianni Scignio il presidente della federazione e dicono guarda pensiamo che ci sia una flotta del dominio che sta per arrivare Gianni Scignio dice ma come fai a saperlo? Sisko dice guarda mentre noi eravamo su Deep Space Nine il tunnel spaziale si apriva e si chiudeva in maniera inspiegabile e noi pensiamo che il dominio si sia attrezzato con dei dispositivi di occultamento e quindi c'è il potenziale pericolo che una flotta del dominio occultata sia diretta verso la Terra praticamente dobbiamo fare un passo indietro nell'episodio 20 e 21 della terza stagione di Deep Space Nine un episodio in due parti che si chiama attacca ai fondatori una flotta di cardassiani e romulani entrambi dotati di dispositivi di occultamento si sono regati a fondamentalmente a romp***lo al dominio peccato che non ci sono riusciti quindi Sisko dice al presidente della federazione guarda da quella flotta nessuno è tornato quindi noi non possiamo sapere se il dominio non abbia riuscito a recuperare la tecnologia di occultamento e quindi abbia dotato le sue navi di dispositivi di occultamento quindi noi riteniamo che questo atto di sabotaggio che ha coinvolto la corrente elettrica fondamentalmente ci fa pensare che adesso l'attacco imminente sotto pressione di Leighton Sisko e Odo Giarecigno è diciamo tra virgolette forzato ad accettare che la Terra sia sottoposta alla legge marziale quindi molte città vengono attuigliate di ufficiale della flotta stellare beh tutto sempre procedere bene finché Odo scopre qualche problema per quanto riguarda la disposizione di alcuni cadetti nella fattispecie parliamo dei cadetti della squadra rossa c'era un'inconcruenza perché questi cadetti dopo mezz'ora circa dal blackout sono stati fatti rientrare dentro l'accademia per poi essere riassegnati Sisko chiede ad un altro ammiraglio di cui il nome non viene specificato e chiede spiegazioni per quanto riguarda la squadra rossa l'ammiraglio dice ma ha trovato questa registrazione nei documenti ufficiali Sisko fa sì questo ammiraglio svuota il sacco però in maniera parziale perché dice guarda hai fatto bene a dirlo di questa operazione non doveva rimanere nessuna traccia ora cancelliamo tutte le prove io pensavo che i membri della squadra rossa non erano efficaci ma invece lei non aveva ragione hanno fatto un buon lavoro e chiude ma di cosa si tratta cosa è questo bel lavoro siccome Nog che era da poco entrato all'accademia aveva manifestato il suo interesse a Sisko a far parte della squadra rossa e a tal proposito aveva bisogno del supporto di un ufficiale superiore beh Sisko manda a chiamare Nog e dice mi fai conoscere questi membri della squadra rossa Nog dice guarda capitan non te lo posso dire e qui Sisko esce le palle e dice cadetto forse ti ho dato l'impressione di sta chiedendo un favore io ti sono in ordine e voglio un nome Sisko parla con il cadetto Shepard in cui questo cadetto Shepard svuota tutto il sacco perché il blackout che era successo sulla terra non era dovuto un atto di sabotaggio del dominio ma era dovuto un atto di sabotaggio interno della flotta stellare quindi Leighton e qualcun altro aveva ingaggiato la squadra rossa per andare a Lisbona e far saltare tutta la rete di distribuzione elettrica della terra perché ha fatto questo perché così lui poteva andare da Giare Scinio e chiedere l'attuazione della legge marziale quando Sisko scopre questa cosa impazzisce l'ammiraglio Leighton lo va a trovare a New Orleans New Orleans è il luogo in cui Sisko andava al di fuori delle ore di lavoro perché era dove viveva suo padre e praticamente gli dice guarda te ne puoi andare cioè Sisko aveva capito il complotto fatto da Leighton che voleva destituire il presidente della federazione e quindi prendere il controllo della terra con la legge marziale e Leighton gli dice bene tu qua non sei più gradito te ne puoi tornare su Deep Space Nine ti ordino di ritornare su Deep Space Nine Sisko furbo cosa fa? dice beh io ho dei giorni di licenze accumulati mi sto qua in feria a Leighton non piace questa cosa e quando Sisko si rega da Giarescigni praticamente viene circondato da membri della flotta stellare della sicurezza gli dicono mi faccia prelevare il suo sangue Sisko era tranquillo gli prelevano il sangue e quando agitano la boccetta si vede che il sangue si trasforma e diventa in quel liquido di cui diciamo sono fatti i cambianti in altre parole Leighton incastra Sisko quando lui capisce se è stato incastrato lui ha il dipante in mano e lo lancia sul tavolo con un gesto di stizza un po' come aveva fatto Bashir nell'episodio precedente quando avevamo parlato di interarma enemy seal intelligence Julian Bashir si toglie il suo e lo bruza sul tavolo con un gesto di stizza Sisko viene arrestato ma viene liberato da Odo e nel frattempo Odo comunica a Sisko di aver comunicato alla Defiant di venire sulla terra perché Deep Space Nine aveva trovato le prove di un altro complotto vi ricordate all'inizio che vedete le tune spaziali che si apriva e si chiudeva in maniera inspiegabile qualcuno aveva installato un modulatore sub-spaziale che praticamente causava l'apertura del tunnel spaziale per far sì che tutti credevano che quel tunnel in realtà fosse attraversato da astronave occultate al domino quindi il tunnel spaziale che si apriva e si chiudeva e il blattato sulla terra erano degli elementi che Layton aveva per far valere le sue ragioni di fronte il presidente già Rescignio una volta che Sisko come dicevo poco fa è stato liberato da Odo si rega con un fase da Layton per chiedere le dimissioni Layton dice no e praticamente Sisko dice guarda guarda la defiant con le prove sta arrivando Layton manda la Lakota comandata da Bentin e Sisko dice guarda la Lakota non attaccherà mai un'astronave sorella della flotta stellare e Layton dice si lo farà perché io li ho ordinato di fare così perché quell'astronave è stata presa in mano dal dominio quindi dovrà farlo dopo uno scontro dalla Lakota la defiant in cui ci sono stati dei morti Bentin si rende conto che in realtà non c'erano cambianti quindi si ritira lascia passare la defiant e la scena finale si vede che Layton si toglie le mostrine e le poggia sul tavolo bellissimo quindi in questo episodio vediamo che alcuni ufficiali di bandiera della flotta stellare cospirano contro la federazione si che c'è un bene superiore però diciamo hanno sbagliato secondo me no? chiediamo al nostro amico Spoco cosa ne pensa interessante se vi è piaciuto questo episodio io vi ricordo di iscrivervi al canale così che voi possiate essere informati quando pubblicherò nuovi video visitate il nostro sito www.borderlanditalia.com e ci vediamo col prossimo episodio dei condotti EPS ciao ciao Grazie a tutti.